Manca la chiarezza, manca il coordinamento, manca tutto. E questa è in estrema sintesi la reazione di chi ha un'attività commerciale in via Fiorentina, altezza Orciolaia, dove stamani sono partiti i lavori per allestire il cantiere della nuova rotonda. In questa fase verrà completata la rete dei sottoservizi. Come siete partiti? Malissimo, perché noi si era fatto un incontro con l'assessore ieri e l'assessore ci aveva garantito che comunque avrebbe tenuto una corsia di uscita delle autovetture provenienti da via Marco Perennio, invece stamattina hanno chiuso tutto e i vigili urbani ci hanno detto che è tutto chiuso perché devono canterizzare l'area. Ci hanno dato delle indicazioni e invece non stanno rispondendo alle indicazioni che ci hanno dato, perché due giorni di chiusura per noi è importante. Se lei l'aveste saputo prima, come avrebbe modificato la sua attività lavorativa? Sicuramente non avrei fatto un carico di prodotti magari esagerato, come hanno fatto tutti i miei colleghi, perché chiaramente significa un impegno economico eccessivo. Tra le polemiche e le difficoltà, da sottolineare il lavoro extra degli agenti della Polizia Municipale, in trincea per fornire spiegazioni con estrema pazienza e rispetto.